Non dateci contributi, ma fateci lavorare. Non chiediamo l'annullamento delle imposte, ma solo di poterle posticipare. Gli essercenti di Gualdo Tadino, commercianti, artigiani, ristoratori, in un fronte compatto e unito per la prima volta, si muovono coralmente dopo la chiusura, sancita dall'ordinanza regionale e fortemente inaspettata anche in considerazione dell'andamento dei contagi, essendo Gualdo tra i comuni con il più basso tasso di positività, per chiedere di poter tornare a lavorare o quantomeno di avere sostegni immediati e sufficienti per le attività. Più di 85 realtà cittadine insieme hanno scritto al sindaco Massimiliano Presciutti per sollecitare misure urgenti. Noi chiediamo innanzitutto il passaggio alla zona arancione, chiediamo l'equiparazione alla problematica statale e non regionale, dove possiamo attingere a fondi e aiuti come è stato poi per l'altra volta. Quindi chiediamo intanto il blocco, e attenzione il blocco e non la cancellazione, dei pagamenti tributari del 16 di febbraio. Perché se siamo chiusi non possiamo assolutamente attingere alle nostre risorse che già dopo un anno di stenti cominciano a essere veramente basse. Chiediamo inoltre aiuti immediati paragonati alla nostra chiusura, che 15 giorni sono metà mese. Quindi abbiamo tutti dei bilanci depositati all'ufficio delle entrate, come è stato l'altra volta, che si attinga a queste informazioni per avere degli aiuti economici veloci, immediati e sufficienti per ogni attività. E chiediamo quindi inoltre, come nel blocco di marzo, che ci siano i crediti d'imposta per quanto riguarda i nostri affitti dei locali commerciali e artigianali e tutto quello che è stato ovviamente, come dicevo, nella chiusura di marzo ed aprile. Siamo i primi ad essere in regola, hanno affermato i commercianti, perché abbiamo paura non solo del contagio, ma anche delle regole. Non saper programmare alcuna attività a partire dalle forniture è quanto più ci penalizza. Gli esercenti hanno tenuto dunque a ringraziare il sindaco Presciutti e Confcommercio per il supporto dimostrato. Il primo cittadino, nel giro di poche ore infatti, si è mobilitato inviando una lettera alla presidente Tesei e alla giunta regionale. Appare del tutto evidente, si legge nella missiva, la necessità impellente di dare risposte concrete a categorie che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e resilienza. Occorreranno pertanto provvedimenti urgenti in grado di dare certezze alle attività economiche di settori già fortemente provati dalla crisi pandemica. Aiutateci, aiutateci perché non ce la facciamo più. È un anno, un anno di stenti e già non è che navigavamo in chissà quali acque. Quindi aiutateci perché quando in una cittadina, io parlo ovviamente per Gualdo Tadino, ma non è che altrove è diverso, quando tutte le luci saranno spente, perché di questo si sta parlando e questo stiamo rischiando, le città diventeranno spettrali e sarà un'altra cosa.